Quello che vedete amici cari è il fiume Tagliamento sulla sponda a sinistra la provincia di Udine e sulla destra quella di Pordenone. Noi saremo protagonisti ancora in provincia di Pordenone ancora con le Dolomiti Friulane ben ritrovati con Agri Sapori, il piacere del buon gusto, ancora il Friule, ancora i sapori, le bellezze paesaggistiche, quelle naturali e quelle architettoniche, non uno ma due speciali da dedicare proprio alle Dolomiti Friulane, alle valli della provincia di Pordenone e ai Magredi ma soprattutto alla gente di queste terre. Rimanete con noi perché sarà un volo, un volo sulle Dolomiti come il volo di un parapendio, sarà un viaggio entusiasmante con Agri Sapori. Ritrovo il direttore di Montagna Leader Giuseppe Damiani, allora un territorio che apre le porte con tutte le sue peculiarità, parliamo di Dolomiti Friulane, delle valli delle province di Pordenone, dei Magredi, di Piancavallo, insomma di tutto di più. Ma sì, in effetti come ha detto lei è un territorio estremamente complesso, quindi si va dai Magredi, da queste pianure steppiche fino ad arrivare alla Valcellina dove c'è la natura più selvaggia, le rocce, passando nel mezzo attraverso una serie di territori e di cose da visitare estremamente importanti e interessanti. Dai borghi che troviamo lungo tutta la fascia della Piedemontana, quindi Frisanco, Pofabro, piuttosto che Andraeis, e ha delle particolari cose che uno, un turista, può scoprire venendo da noi. Cito per esempio, perché pochi sanno, quell'arte del terrazzo che è l'arte povera del mosaico, no? Cioè il mosaico è Sequals, sì è Spilimbergo, però Sequals è la patria del terrazzo. Il terrazzo nasce perché proprio i ciottoli dei vari corsi d'acqua che avete visto hanno colorazioni diverse e quindi raccogliendo questi ciottoli si potevano fare dei quadri e delle raffigurazioni. Così è importante questo territorio perché ha una serie di valori diciamo storici, architettonici, abitativi che sono estremamente importanti e quindi uno venendo qua può soggiornare in un posto tranquillo, meraviglioso, assaporare una serie di prodotti che magari voi avete avuto modo già di degustare ma invito i teleospedatori a provare, che possono andare dai vitigni autoctoni piuttosto che dai ortaggi e dalla frutta che troviamo su questo territorio agli insaccati, agli allevamenti degli ungulati o i trasformati del latte. Devo dire che in effetti c'è veramente di tutto, non manca nulla per passare giorni molto molto belli, poi anche situazioni come i musei, penso ai coltelli di Magnago per esempio. Sì, beh tutto il territorio ha una fitta rete musiva, di piccole esposizioni museali, quindi quello della coltelleria diciamo è il più organizzato però lungo tutti i comuni, tutti i territori troviamo piccole esposizioni che raccontano la storia, i saperi e i sapori diciamo di questo territorio, quindi piccole cose che magari hanno un grande valore proprio per un carattere di riconoscere, di conoscenza di questo territorio. Direttore io vado a viaggiare perché ho tanti comuni da raggiungere, tante brave persone, tante cose, tante cose da mangiare, da assaggiare, ma quello lo sappiamo io e lei. Io faccio tanti auguri a lei nel suo viaggio e invito parecchia gente a riprovare, a sperimentare il viaggio che lei andrà a raccontare. Ma ci mancherebbe, rimanete con Agri Sapori dalle Dolomiti Friulane. Le telecamere di Agri Sapori sono tornate a Polcenigo in un sito molto bello che si chiama Il Palù, però per parlarne, per spiegarlo, per raccontarlo ancora una volta perché abbiamo già avuto modo di conoscere alcune sfumature, ho con me Deborah Delbasso di Montagna Leader. Allora questo è un sito particolare, vuoi raccontare a loro e spiegare dove ci troviamo? Sì, qui allora come si diceva siamo in comune di Polcenigo, confinante con Caneva e Budoia, sito del Palù, qualificato sito UNESCO, quindi un sito di importanza internazionale. È un sito palla fitticolo, nel senso che già dagli anni 60 sono stati fatti le prime ricerche, sono stati rinvenuti i primi elementi proprio della struttura palla fitticola esistente e oggi sono ospitati al Museo di Torre di Pordenone. E tu Deborah sei oggi legata ad un progetto che appartiene chiaramente al sito. Sì esattamente, si tratta di un progetto di cooperazione transnazionale gestito dal Gal Montagna Leader che vede coinvolti anche Francia, Finlandia e Basilicata sul tema della landscape, dell'arte legata al territorio e alla valorizzazione dei beni paesaggistici. Questo che cosa vuol dire? Perché abbiamo visto delle opere d'arte. Sì, allora la land art non è nient'altro che appunto lavorare in natura, con gli elementi della natura per valorizzare il paesaggio. E come Gal abbiamo pensato che questa possa essere una strategia anche turistica molto interessante perché vengono create delle opere d'arte da veri e propri artisti internazionali che arricchiscono il territorio in un'ottica di sostenibilità. Col tempo l'ambiente, il territorio si riprende a quelli che sono gli elementi della natura. Le opere che abbiamo visto fino a quando saranno esposte e rimarranno sul territorio? Allora, come dicevo prima, dipende dal tempo, dalla natura, però si presume almeno fino a ottobre le opere saranno ancora visibili. Deborah Cara, ti ringrazio per la tua partecipazione. Beh, a pochi chilometri c'è un paese che si chiama Canevan. Rimanete con Agri Sapore. Del frigo. Il signore al mio fianco è Andrea Tiglio Gava che è il primo cittadino di Caneva. Allora, signor sindaco, noi siamo stati a vedere la sua bella città ma soprattutto siamo stati a Villa Frova che è una villa, se ho ben capito, storica, importante. È una villa importante che è stata acquisita come patrimonio dell'ente circa 15 anni fa. Il mio predecessore, la giunta precedente, ha proceduto a un'opera importante di ristrutturazione e quando siamo arrivati noi ci siamo trovati l'onore e anche l'onere di doverla avviare. È stata una cosa molto importante e abbiamo deciso di attivare questa struttura attraverso un percorso partecipativo. Quindi abbiamo coinvolto le cittadinanza, le associazioni presenti sul territorio perché crediamo che una struttura così importante debba innanzitutto essere un valore per il territorio e per i cittadini di Caneva ma può diventare anche un motivo di attrazione per turisti e per appassionati che vogliono venire a conoscere il nostro territorio. Il progetto che abbiamo attuato sulla villa si chiama Officina della Sostenibilità. Quindi un modo anche per interpretare il nuovo modello di sviluppo in questo momento di grandi cambiamenti. In particolare io all'interno ho trovato un essicatoio storico che ci porta indietro nel tempo quando sul territorio l'allevamento e la lavorazione con i bacchi di assetta era l'ordine del giorno. Certo era una realtà molto importante sul nostro territorio, una fonte di impiego anche per molte donne e quindi quando abbiamo inaugurato la villa a tagliare il nastro abbiamo chiamato sei donne che lavoravano nelle filande di Caneva, un segno importante di continuità, di riconoscimento verso chi per il nostro territorio ha lavorato molto e assieme alle donne c'erano ovviamente dei bambini perché questa struttura può avere anche un valore per le generazioni future. Ora raggiungiamo come vi ho preannunciato, Alessia andiamo in vigna, parliamo di vino e parliamo anche di un altro prodotto qui del territorio, ma rimanete con noi. E nel cuore di un bel vigneto con piacere incontro la signora Alessia Carli Allora parliamo subito di un vino importante del territorio, un vino autoctono devi spiegarlo a loro che ti stanno ascoltando Allora il vino di Caneva è il Verdiso, un vino autoctono, buonissimo oserei dire Un bianco Un bianco che noi facciamo frizzante, si accompagna bene con il pesce Si può andare dall'aperitivo al pesce, ai piatti di formaggi perché è un vino che ha un'alta acidità quindi sgrassa la bocca Un vino che ha fatto la fortuna di Caneva e che purtroppo si è rimasti gli unici a coltivarlo Hai capito, come mai questo? Perché è un'uva difficile da portare in cantina sana Abbiamo la fortuna di abitare in un posto dove c'è l'assenza di rugiada sempre ventilato e quindi si riesce a portarlo in cantina sana l'uva sana e quindi a fare un ottimo prodotto come vi è Abbiamo detto del Verdiso ma non solo fai anche altri vini, ci mancherebbe No, noi coltiviamo anche la Malvasia Istriana, il Verduzzo Friulano, Prosecco, Glera il Manzoni Bianco, un altro buon vino e come Rossi invece il Re Fosco dal Piedoncolo Rosso Merlot, Cabana Savignon e Cabana Franc, ci divertiamo diciamo E poi anche se non è questo il momento della raccolta, dobbiamo dirlo per dovere di cronaca c'è un altro prodotto importante di cannava che è il figomoro dal quale realizzate dei derivati Certo, oltre che venderlo fresco, a parte in Friuli però già siamo arrivati in Veneto, Emilia, un po' Lombardia, Trentino anche oltre Italia con il fico fresco, quello che non si può commercializzare perché è maturo lo trasformiamo quindi in varie marmellate, salse preparate per cucina, per gelato perché ha una varietà di... E c'è un consorzio con tanti produttori C'è un consorzio, siamo partiti otto anni fa, in pochi di noi siamo arrivati a 60 soci è stato rivalorizzato il territorio, chi aveva la pianta abbandonata, ripulita, potata Fermati, non mi dire più nulla perché ci promettiamo e ripromettiamo di tornare per parlare meglio del figomoro nel momento in cui è più crociale come attimo la raccolta però menzionerei ancora il figo per un motivo storico perché siccome i veneziani su questo territorio prendevano un po' di tutto, prendevano anche il figo Certo, all'epoca veniva essiccato e usato come merce di scambio, imbarcato e usato contro lo scorbuto Ai marinai veniva dato, su carte scritte, c'è scritto che veniva dato a ogni marinai un fico secco e una ringa proprio per combattere lo scorbuto Carissima, io ti stringo la mano, complimenti a te e alla tua famiglia, siete bravi e vi invito a rimanere con Agri Sapori Il comprensorio territoriale che abbiamo raggiunto è quello del comune di Aviano ma siamo saliti ad oltre 1200 metri, siamo saliti in montagna a piancavallo perché? Perché non possiamo parlare di Dolomiti Friulane, provincia di Pordenone e non salire chiaramente in montagna e allora un parco avventura, un rampi park Con me c'è Valeria Bertoncelli con la quale cerchiamo di presentare uno dei parchi avventura più grandi del territorio Com'è strutturato? Il parco è strutturato su 5 percorsi con 5 diverse difficoltà Le difficoltà chiaramente sono date dall'altezza e dai tipi di gioco sui percorsi Si passa lentamente dai 2 metri massimo di altezza fino ai 12 metri e i giochi sui percorsi, quindi i giochi da affrontare passano progressivamente dall'equilibrio a equilibrio e forza fisica Le persone arrivano fin dove si sentono non è necessario affrontare tutto il parco se uno non se la sente e appunto si fa tutto in progressione partendo dai percorsi verdi fino ad arrivare dal percorso nero che è il più difficile di tutti Per un totale di circa 3 ore passa sugli alberi Voi fornite tutta l'attrezzatura? Noi forniamo tutta l'attrezzatura che è l'imbrago noi offriamo un imbrago, delle carrucole per fare le teleferiche e un casco Le persone arrivano, c'è un punto naturalmente, una reception tra virgolette imbragatura, perciò attrezzatura, poi un briefing iniziale? Loro hanno un briefing iniziale con la spiegazione delle regole fondamentali di sicurezza che ci sono nel parco una prova obbligatoria per cui devono provare prima con i piedi per terra tutti quelli che sono i meccanismi, anche la carrucola, eccetera poi cominciano progressivamente dai percorsi più facili fino ad arrivare in altezza Eventualmente l'istruttore c'è? Gli istruttori sono presenti nell'area briefing, nell'area verde siamo presenti molto numerosi e sotto ogni percorso sotto ogni percorso loro sono presenti degli istruttori che nel caso di aiuto salgono, fanno scendere, danno indicazioni su come fare i giochi Il parco è aperto quando? Il parco è aperto nei mesi estivi, quindi a partire da luglio-agosto tutti i giorni, un solo giorno di chiusura a luglio, che è lunedì però ad agosto tutti i giorni in bassa stagione, weekend e su prenotazione Insomma, una bella avventura, un altro buon motivo per venire qui in Friuli e godersi una vacanza Valeria, ti ringrazio moltissimo c'è un signore che ci sta aspettando e sapete con che cosa, anzi con chi? Con gli asinelli Andiamo un po' a vedere Detto fatto, siamo saliti di qualche metro Claudio Pasqualin e guardate che belle queste due somarelle Dico bene? Bravo, sono asine sono Lisetta e Pierina hanno 3 e 6 anni e sono qua con noi da ormai un po' di tempo Perché abbiamo le asinelle? Noi proponiamo come genzianella la merenda colasino cioè cerchiamo di avvicinare i bambini a questi animali e alla natura attivamente in maniera che capiscano cosa significa stare con loro passare delle mezzogiornate con loro attivamente e soprattutto capire la loro indone e riuscire in qualche modo a imporsi non essere passivi nei confronti della natura e quindi è una cosa che ha un gran successo i bambini diventano mati per questa Poi fa bene stare a contatto con gli animali loro sono molto buoni e poi suppongo che insegnate anche per esempio che cosa c'è su Piancavallo se vediamo un'erba, un fiore, qualche cosa Certo, facciamo vedere la natura di Piancavallo che è una delle nature più varie che ci possono essere come flora e li portiamo a vedere anche il panorama perché da Piancavallo si può vedere il mare si può vedere da Pola fino a Venezia nelle giornate meravigliose e per loro è un'esperienza che raccomandiamo soprattutto perché i bambini che fanno una vita molto sedentaria i bambini e anche gli adulti riescono con questi animali a fare camminate, a fare moto come non farebbero mai i genitori sono rimasti sbalorditi a vedere i propri figli fare due, tre ore di camminata Sì, perché non è una fatica ma è un divertimento È un divertimento, li trascinano e dopo si mangia insieme i bambini al momento giusto fanno la merenda e gli asini al momento giusto fanno la loro merenda E noi ne ringraziati diciamo che al momento giusto lasciamo Claudio ma raggiungiamo il 1301 in perché continuiamo a parlare da Piancavallo e parliamo di organizzazione e soprattutto di ricezione sportiva Durante la stagione estiva Piancavallo è sicuramente meta ideale per chi ama divertirsi e fare dello sport I Pazio Ciardo è qui con me voi siete, per quanto riguarda la ricezione turistica sportiva, le persone ideali con cui parlare, con cui far raccontare a loro che ci ascoltano che cosa troviamo lasciate la parola In Piancavallo si trova dell'aria pulita sana, fare dello sport sano all'aperto sia outdoor che indoor Indoor offre dal palasporto con discipline basket, pallavolo, calcetto, trampolini invece fuori porta delle bellissime passeggiate oppure come possiamo vedere dei bellissimi campi sportivi e strutture all'aperto Poi c'è anche il palaghiaccio Anche il palaghiaccio, certo quest'anno abbiamo ospitato la nazionale russa la campionessa olimpionica di Sochi 2014 siamo contenti è un piccolo seme che speriamo che sia un grandissimo raccolto per il futuro Abbiamo citato i campi da gioco calcio, calcetto, tennis ma anche strutture per esempio come l'Alpin Costner L'Alpin Costner è una struttura che fa il divertimento perché oltre che fare sport bisogna anche divertirsi e poter svagarsi per i più piccoli è l'Alpin Costner che può soddisfare alcuni momenti di mozzafiato più piccoli ma anche grandi secondo me anche grandi e poi ci facciamo mica mancare la bicicletta voglio dire no, la bicicletta con il bike park che è una cosa da mozzafiato Ipazio, gentilissimo grazie per la tua disponibilità prosegue il nostro viaggio con Agri Sapori 400 metri d'altezza circa siamo a bordo del trenino della Val Cellina siamo partiti dal comune di Barcis dove c'è un bel lago ma ora cerchiamo di capire meglio il tutto ci facciamo spiegare dove siamo da Maurizio Salvador che è il presidente del proloco proprio di Barcis allora vacanze sulle Dolomiti Friulane vacanze anche sul lago di Barcis certo il lago di Barcis è uno degli elementi di maggior richiamo per quanto riguarda proprio il territorio delle Dolomiti Friulane è un lago artificiale è stato realizzato all'inizio degli anni 50 e siamo un territorio unico per presenza di risorse naturali e di risorse ambientali abbiamo cercato di valorizzare questo tipo di risorse anche con un turismo non invasivo che in qualche modo possa raccogliere le bellezze di questi luoghi abbiamo per esempio investito molto in questi ultimi anni sulla ciclabilità ci sono diversi percorsi ciclabili poi c'è la possibilità di fare camminate e escursioni c'è la possibilità anche di visitare questi bellissimi luoghi e la forra del Cellina dove passa la vecchia strada della Valcellina quella strada che fino a una ventina di anni fa consentiva il collegamento di Barcis e della Valcellina con la pianura che oggi è chiusa ecco dicevo con questo trenino si può visitare questa strada che passa attraverso uno dei canyon più belli non solo d'Italia ma direi del mondo ecco un percorso che dura circa quasi un'oretta 50 minuti proprio con il trenino per godersi comodamente tutto ciò che il nostro amico della Proloco ci ha spiegato Barcis ha pochi residenti ma che lavorano fondamentalmente proprio un po' tutti sul turismo sì un turismo principalmente estivo anche se la gente qui da noi viene anche in primavera e in autunno anche in inverno approfittando della vicinanza con il Polo Turistico del Piancavallo siamo in effetti a meno di 15 chilometri e quindi c'è una facilità anche di collegamento in quella direzione e direi che è un comune che ha 200 e poco più abitanti ma che sviluppa una serie di iniziative a livello di manifestazioni turistiche manifestazioni culturali e sportive di primordine tutti i mesi di luglio e di agosto e di settembre ci sono ogni giorno direi e ogni domenica degli appuntamenti estremamente importanti mercatini mostre di pittura mostre fotografiche serate con gli autori momenti musicali concerti direi che per chi decide di venire a trascorrere una vacanza qui da noi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pochi residenti ma tanti posti letto. Sì direi che abbiamo puntato moltissimo in questi anni a potenziare le strutture recettive e oggi abbiamo oltre 400 posti letto sparsi tra alberghi e agriturismi e da quest'anno abbiamo anche una novità l'albergo diffuso del lago di Barcis sono oltre 80 posti letto disponibili sparsi in 23 case e appartamenti un modo originale per venire a trascorrere la vacanza e poi per chi ama invece l'aria aperta abbiamo anche un bellissimo campeggio e un'area camper che è stata riconosciuta a livello internazionale questo signore è Marco Tinoro noi siamo sopra Barcis siamo in Valpentina Valpentina a 4 chilometri dal paese metri più o meno? 5,42 perché ora è giunto Marco? Perché lui è un agriturismo poi parleremo anche di piatti ma tutto a suo tempo qui c'è un meleto particolare ti lascio le telecamere di Agri Sapori raccontaci un po' la tua avventura con le mele mio papà aveva messo impiantato qualche anno fa un piccolo frutteto abbiamo visto che le mele venivano, venivano bene poi con l'opportunità di poter ingrandire comunque l'azienda agricola nata comunque sempre con un metodo biologico fin dal suo inizio abbiamo impiantato circa un poco più di un etero di mele ci sono sei varietà di cui una gialla e le altre invece tutte quante rosse sono varietà resistenti ad alcune malattie proprio per il metodo di coltivazione biologico però sono varietà non consuete non consuete, sì, sono poco conosciute qua nel nostro mercato locale abbiamo la Sirius che è quella gialla poi abbiamo la Idared, la Pinova, Myrac, Braiburn e Topaz produciamo il succo sfruttando tutte le qualità delle varie mele facciamo un misto un blend via esatto però tutto biologico tutto biologico assolutamente come quel piccolo orto che abbiamo le vendiamo sia in azienda che in alcuni negozi biologici qua della zona con qualche mercatino naturalmente come un po' per tutti i territori vocati alla produzione delle mele qui conta l'escursione termica assolutamente sì per quello abbiamo scelto queste varietà rosse perché da settembre in poi quando è il periodo di fine di maturazione tra la notte e il giorno c'è questa escursione termica e le mele comunque si colorano molto bene diventano belle rosse tardi, maturano tardi rispetto alla pianura ma da fine settembre in poi comincia la raccolta voi aderite a Campania Amiche Coldiretti esattamente e ormai è da alcuni anni quindi abbiamo cominciato facendo il mercato di Magnago quello qua più vicino sfruttando comunque l'idea del chilometro zero dei prodotti e qualche altra festa qualche festa paesana qualche mercatino più in lasso ma come Pordenone c'è un'altra curiosità so che hai messo giù i carciofi sì esatto è quasi più che una scommessa sì beh qui è un'altra scommessa quasi per scherzo conoscendo un ragazzo comunque che lavora con l'ERSA e con l'università mi ha procurato una decina di piantine lo scorso anno e mi fa mettile perché le producono anche su in Trentino questa varietà abbiamo provato a metterle a fine settembre fino a metà agosto abbiamo mangiato dei nostri carciofi quest'anno abbiamo ingrandito e abbiamo messo una cinquantina di piante speriamo che ci diano soddisfazione senti Marco scommessa per scommessa tu pensi che se andiamo all'interno dell'agriturismo papà ci racconta qualche piatto? io penso di sì lo facciamo parlare che dici? lo facciamo lavorare magari anche su come si viveva qua una volta visto che qua è dove è nato lui benissimo allora guarda facciamo andiamo dai il signor Mario Tinor è il papà di Marco al pian dei tassa siamo arrivati all'agriturismo abbiamo lasciato il frutteto dove abbiamo incontrato il suo figliolo Mario l'agriturismo che c'è oggi è in realtà la casa di famiglia di una volta certamente la casa dei miei avi dei miei noni dopo è passata ai miei genitori dei miei genitori l'ho presa io l'ho presa io tutti i miei fratelli sono stati all'estero e così io sono ritornato e l'ho coltivata l'ho tirata su di nuovo estero perché una volta la vita qui era dura siete andati via tutti per lavorare a 17 anni si andava via si tornava per fare il militare poi si ripartiva e non si sapeva quando si tornava qui c'è un piatto tipico che proponete chiaramente all'agriturismo esatto questo qui è il piatto che noi facevamo ai tempi non era così elaborato però era questo piatto si faceva la colazione col frico si mangiava a mezzogiorno frico diciamo che durante l'estate era il nostro piatto favorito due volte al giorno vogliamo ricordare i passaggi di come lo si prepara? si prepara la cipolla il formaggio e le patate e le patate oggi io l'ho elaborato che gli metto anche delle verdure delle zucchine quello che mi trovo nell'orto perché molti piatti che fate qua sono poi realizzati con le verdure dell'orto certamente certamente tutte verdure che coltiviamo noi e lavoriamo dalla primavera all'autunno in base alle verdure che noi abbiamo altrimenti in primavera si va a raccogliere il tarasaco il famoso sclopit così chiamato da noi che sarebbe il selene e così via si raccoglie le verdure si fa anche i mangiari con le urtiche il tutto servito qui con la polentina sempre la polenta fresca sempre la polenta fresca noi non compriamo mai polenta la facciamo sempre qui da noi si fa la polenta arrostita con la nostra che ci rimane la sera prima e ce la fa l'indomani è buona che è è buona che è Mario ultima battuta siete aperti in quale periodo dell'anno? allora noi apriamo da marzo sabato domenica le camere vanno comunque sempre tutto il tempo dell'anno la camera e i appartamenti e poi da maggio in base al tempo in base alla richiesta dei clienti siamo ogni giorno fino a fine settembre prima ottobre poi dopodiché torniamo sabato domenica fino a fine novembre oppure anche più in là diciamo rimanete con Agri Sapori parliamo di vini del territorio lo facciamo dal comune di Sequals con me c'è Caterina Cipriani che è la PR dell'Albino Armani allora Caterina prendiamoci come dico sempre i tempi giusti intanto parliamo del territorio perché ho detto vini del terroir del terroir qua siamo nella zona friulana abbiamo le doi omiti che circondano la nostra cantina come avete potuto vedere un attimo fa quando siete arrivati un terroir veramente difficile in quanto abbiamo uno scheletro ben presente superiamo il 90 per cento quasi un 99 appunto siamo in mezzo ai clubs ai sassi il territorio della grave è particolare appunto per questa peculiarità però nel bicchiere possiamo riscontrare la mineralità la sapidità e comunque anche un profilo aromatico veramente interessanti abbiamo visto un grandissimo vigneto quasi 90 ettari vigne vecchie ma anche appena impiantate esatto questa è una scelta del mio titolare appunto ha investito molto e crede molto in questo territorio quando è stato circa 20 anni fa questa tenuta lentamente ha ritrasformato e riconvertito tutti gli impianti per cui avete visto gli ultimi impianti nuovi e anche una parte di quelli vecchi perché appunto ha deciso di modificare il profilo di impianto per dare diciamo più valore a proprio questo tipo di suolo questo terroir differenziandoci così dalle altre zone che vini abbiamo? allora noi abbiamo Friulano, Sauvignon, Traminer, Pinot Grigio, Chardonnay dopodiché passiamo alla linea dei rossi abbiamo Refosco da Pieduncolo Rosso, il Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot Prosecco anche? certo anche Prosecco con quasi 90 ettari è facile comprendere come siano molte le bottiglie che vengono prodotte una parte esigua più piccina diciamo rimane sul territorio anche se una parte importante è il grosso estero sì estero circa un 70% il resto come diceva lei appunto rimane sul territorio italiano stiamo spingendo molto perché anche la grave delle omiti frulane vengano conosciute il vigneto è tutto sul territorio comunale di Sequals a parte una piccola porzione che nel comune di Spilimbergo ne approfitto perché salutiamo anche Spilimbergo con le sue peculiarità allora Caterina Cara abbiamo detto cose importanti sono vini interessantissimi da buoni profumi, sapori meravigliosi lei è una giovane perciò e la vedo anche appassionata questo mi fa piacere lo dico sempre a chi è giovane e vuol dire che il vino stimola molto le donne molto le donne sono molto attive nel settore enologico probabilmente anche perché a volte sono magari più attente a alcuni dettagli rispetto agli uomini senza nulla togliere chiaramente va bene dai la incasso volentieri facciamo dunque un brindisi guarda ti do del tu facciamo un bel brindisi alle dolomiti friulane alle bellezze di questo territorio ai sapori, alla gente, ai vini a tutto ciò che si può trovare quando si raggiunge questa bella parte d'Italia completiamo così il nostro primo appuntamento estivo dedicato alle dolomiti, alle valli del Pordenonese ai Magredi, a Piancavallo, a Montagna Leader ma avremo ancora la prossima settimana tante cose interessanti da presentarvi proprio da questa terra grazie alla nostra redazione anche questa puntata www.agrisapori.it un like sulla pagina Facebook ci fa piacere vi aspetto per i prossimi viaggi e a ribrindo con Caterina grazie a tutti